Di qui stanno disputando un'ottima stagione, il traguardo promozione sembra alla loro portata. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Occhio cerca l'area di rigore, cercano di avanzare lateralmente ma legge bene qui la situazione della difesa. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Hanno spezzato bene la trama qui. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh direi molte Pier. Marchisio. Parte il cross. Rubano bene palla. Ecco il tiro. Pochi centimetri più in basso e sarebbe entrato in porta. Supera l'avversario. Bel pallone filtrante ma ottima copertura. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Recuperano palla. Punta l'area. Attenzione al tiro. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Palla che finisce in corner. Risolde lui. Tutto facile qui per il portiere. Vediamo cosa decide l'arbitro. Palla buttata via. È riuscita a interrompere la trama con un buon intervento. Conquistano una buona punizione. Distanza favorevole. E viene dunque inserito fra i cattivi. Cantalino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte. Altrimenti fuori. Colpisce di testa. Sicuro l'intervento del portiere. Ottimo controllo. Occhio all'uno contro uno. Si avvicina all'area. Prova ad andare. Attenzione. Rente. Un tiro preciso. Il portiere non ha potuto nulla. Ci vogliono dei piedi delicati come i suoi. Per fare queste cose. Hanno aperto le barcature con questo gol. 1-0. Passaggio sbagliato. Ballone in alto. Perdono palla. Tutto facile qui per il portiere. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. È arrivato il cartellino a munizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi. Non accenna nemmeno una protesta. Palla. Hanno perso palla. Palla. Palla che finisce fuori. Palla nuovamente in faro laterale. Palla nuovamente in faro laterale. si ripartirà con un calcio di punizione. ha intercettato bene il passaggio. Ha intercettato bene il passaggio. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. non ci sarò dubbi qui a munizione. Ci sta tutta. Ci sta tutta. ha intercettato palla con un ottimo tempismo consentendo alla difesa di respirare. interrompono bene l'azione allentata. Si chiudono così i primi 45 minuti. risolta.